La partita Roma-Juve ha un prologo sulle pagine del settimanale Rigore che anticipa il sorteggio dell'arbitro Borriello. Casualità e fortuna secondo i designatori, soffiata stando a quanto riferisce il direttore del periodico Teotino. Entrambe le formazioni si schierano con due punte ed un regista alle spalle. La Juventus pressa e mette in difficoltà la capolista che impiegherà una ventina di minuti per allestire le sue contromosse. Resta comunque il fatto che Ancelotti è riuscito a tamponare le incursioni di Cafu e che di conseguenza ne ha risentito tutto il centrocampo giallorosso nel quale ha brillato soltanto Tommasi. Tommasi è un livello straordinario, un giocatore in questo momento nel centrocampo italiano non è uguale. Alla Juve è mancato soprattutto il reparto avanzato dove peraltro Enzaghi, reduci da un'influenza, non ha dato il meglio di sé, fatta eccezione di un tiro in corsa che ha sfiorato il palo. Ha avuto non date opportunità come nessuno degli attaccanti in questa partita le ha avute, nemmeno ho fatto distrutto, ha lavorato per la squadra e ha fatto bene. Partita comunque veloce e risultato che Ancelotti considera giusto. Ci sono stati momenti della partita dove c'è stata la supernazione della Juve, momenti in cui c'è stata quella della Roma, tutto sommato e quindi è stata una partita con un risultato giusto. Alla vigilia Capello considerava un pareggio come una mezza sconfitta, bautazione solo in parte modificata a fine gara. Eravamo vittoriosi questa sera, più tranquilli, però soddisfatti lo stesso, proprio per la dimostrazione che mi ha dato in campo. La Juventus ricorda la sfortuna in occasione del palo di Ferrara. In casa a Roma si cerca di smorzare i toni riguardo al presunto rigore, negato, per farlo di Pessotto su Totti. Un tocco sul piede sinistro del capitano Gellorosso in realtà c'è stato, ma anche questo è avvenuto fuori area. All'Olimpico ieri sera si sono affrontate due delle principali contendenti per lo scudetto. La Juve è una squadra difficile sempre, perché ha mentalità, ha forza e ripeto, loro faranno sempre solamente il campionato, quindi avranno le possibilità di concentrarsi su questo. Questa è una grande facilitazione. La Juve è stata questa partita rinfrancata dal Morale, non ha fatto il risultato pieno, però ha dimostrato di competere alla pari con la Roma e quindi il campionato è lungo e possiamo rimontare.